Marito e moglie, dopo una vacanza finita veramente male, si trovano sperduti nel deserto che vagavano nel nulla. Ad un certo punto il marito si rivolge alla moglie e le dice Cara, cara, sì caro, devo darti due notizie, una bella e una brutta. Allora la moglie, dimmi prima quella brutta. Cara, anche oggi dovremmo mangiare sabbia. Ah, dimmi ora quella bella. Sì cara, guarda quanta ce n'è. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.